salve a tutti sono flavio baffa led chef del vista trastevere situato al settimo piano del nostro hotels appunto l'uno hotels trastevere e vi do il benvenuto buongiorno sono alessa dell'uno hotel trastevere in questo ambiente caloroso e caldo vengono servite le nostre colazioni importantissime per farvi iniziare al meglio la vostra giornata importanti per noi sono anche le varie intolleranze nel caso di aciliachia vi informiamo che potete comunicarlo nel momento della prenotazione o al vostro arrivo è però riservato un copanetto con una selezione di prodotti pensati appositamente per voi noi rimarremo comunque a vostra disposizione questa è parte della nostra attrezzatura parte delle nostre stoviglie nonché alcuni prodotti che usiamo al momento della ricezione da parte del nostro personale della sala di una persona celiaca